L'incontri dove la gente viaggia e va a telefonare col tuo poppa chissà di pioggia e la ventiquattro ore perduti nel corriere della sera nel va e vieni di una chiamediera ma perché ogni giorno viene sera a volte un uomo è da solo perché ha in testa strani i tarmi perché ha paura del sesso per la smania di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro perché la vita lo ha già messo al muro o perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e hai piaciuto più di noi Prendiamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei Prendiamo se si può farci amare come siamo senza violentarci più con i prozzi e cilosia perché questa vita scende e chi è risultato a muore oppure fa l'amore grazie grazie